Il secondo giorno di blocco delle attività per il deposito del Consorzio di Bacino Salerno 2 in via Scavata e Case Rossi a Forni, alla periferia di Salerno, con l'impossibilità di far uscire i mezzi per le regolari attività di raccolta dei rifiuti. Prosegue infatti la protesta avviata da una quindicina di lavoratori iscritti ai sindacati confederali, esasperati però dalla situazione con quasi quattro mesi di stipendi arretrati e con un futuro sempre incerto, che non hanno condiviso la linea ufficiale delle organizzazioni sindacali definendola eccessivamente attendista, passando all'azione. Per il secondo giorno quindi sono rimasti parcheggiati all'ingresso del deposito una decina di automezzi impedendo al resto dei lavoratori regolarmente presenti in azienda di poter svolgere la loro attività. Per i quindici dissidenti la volontà di andare avanti ad oltranza o comunque fino a quando non arriveranno risposte chiare. Si è formata una spaccatura all'interno del consorzio giustamente perché una parte dei lavoratori che sono sindacalizzati hanno fatto una scelta di fare questa protesta e ci è stata condannata questa cosa da parte dei sindacati. Siamo in democrazia e giustamente dice che questa protesta andava concordata con loro. Ma visto che abbiamo fatto vari tauri tecnici e istituzionali dove abbiamo firmato centinaia e centinaia di verbali con dicende che ci davano gli stipendi, ci davano il futuro, ma non si è visto niente. Fino adesso non servizio di studenti. Noi ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, dal consorzio, dal titolare del servizio. Qua noi non pigliamo stipendi da quattro mesi quasi, da tre mesi e mezzo a quattro mesi. Purtroppo la disperazione sale. Non c'è il rischio che bloccando però i camion e quindi bloccando il servizio si possono creare ulteriori problemi? I comuni possano denunciare la prima tempienza e il consorzio? Sì, questo è un rischio che noi abbiamo valutato perché facendo questo tipo di operazione chiaramente i comuni si allontanano, non si avvicinano. Però ci sta uno schema ben preciso. C'è una legge 5 regionale che dice che i comuni non se ne possono andare dal consorzio perché devono rispettare la legge regionale 5. Fino adesso i comuni questo non l'hanno fatto. Noi abbiamo fatto questa forma di protesta anche per ottenere un tavolo in provincia con il Presidente Canfora che convochi tutti i sindaci e ci danno una garanzia che un domani facendo gli atto e gli sto prenderanno i non collocabili di scavate case rosse che siamo circa una sessantina. Andremo avanti fino a quando? Andremo avanti finché le forze ce lo permettono e finché abbiamo risultati sui tavoli istituzionali. Se loro vengono qua, i sindacati ci vengono a dire ragazzi sciogliete tutto perché ci stanno le speranze che il futuro ci sarà e la parte che non ci sarà. Noi siamo felici e contenti perché abbiamo tutti quanti le famiglie e tutti quanti dobbiamo mangiare e lavorare. I sindacati intanto continuano a dissociarsi da questa forma di protesta. Per CGL, CISL e FIADEL un blocco del genere mette in grave difficoltà il futuro occupazionale di tutti i dipendenti, circa 380 del Corisa 2, creando anche ulteriori disservizi che potrebbero incentivare i comuni ad abbandonare i consorsi. I sindacati hanno anche ribadito che la gran parte dei dipendenti ha invece espresso la volontà di poter tornare quanto prima al lavoro. Venerdì in ogni caso i sindacati confederali terranno un incontro in prefettura con un presidio dei lavoratori in piazza Mendola e sei ore di assemblea già previste.